arianna pomiglio una giocatrice apparsa nel mondo del bridge da pochissimo tempo è diventata immediatamente popolarissima non per i motivi evidenti che tutti potrete constatare alcuni altri valori che eventualmente che sicuramente possiede però naturalmente non possiamo chiedere a te quali sono questo mondo per te che l'hai conosciuto da poco tempo che in che impressione hai che effetto ti fa vivere in questa realtà sarò poco popolare ma mi piace mi piacciono le persone che ci sono mi diverte mi diverte che si sta insieme ragazzi più giovani meno giovani tutte le età mi diverte perché ci lascia ci fa allenare la mente per cui abbiamo modo di stare sempre insieme parlare discutere a me piace poi come tutti gli altri mondi qualcuno si può anche evitare in questo sentiamo un attimo adesso robin robin e arianna sono una coppia sia nel brigio che nella vita se può dire sì vieni qua sono una coppia sia nel brigio adesso infine a te chiediamo di arianna giocatrice una volta mi hai detto ha fatto passi da gigante confermi confermo confermo diciamo che in poco tempo è riuscita a essere giocatrice a giocatrice di tavolo che vede cosa sta succedendo diciamo che il percorso di crescita è ancora ancora c'è ancora da fare c'è ancora da lavorare però il lavoro per ora sta dando i suoi frutti senti qui invece non state cogliendo i frutti che ti aspettavi no e onestamente ero molto più ottimista però è a questo punto bisogna riuscire a portare a casa questa salvezza rimane rena e sperare per l'anno prossimo per il sogno eccellenza ok arianna c'è ovviamente piacere vedere incontrare qualcuno che ama profondamente questo mondo che da questo mondo mi piace ho detto sono un po controcorrente ma a me piace ma perché controcorrente perché quando incontri qualcuno dice tutti no un mondaccio no guarda questo non guarda quello non è vero non è così non è vero tutti i mondi c'è qualcuno buono qualcuno meno buono basta fare una buona selezione arianna ha quattro anni quindi la voce dell'innocenza è da qui da pochissimo se lo dice lei è così grazie a tutti e due grazie